sì allora preserverò un posto al chiuso ci vediamo questa sera grazie salve a tutti benvenuti sul mio canale oggi sono a casa di samsung vi parlo del udite udite i nuovi s24 quest'anno ci hanno ispitato qui per lanciare i nuovi i nuovi s24 ma soprattutto per lanciare la nuova nuovissima l'intelligenza artificiale di samsung lanciata appunto da samsung sulla guai 6.1 che è di fatto già che troviamo già aggiornata sui nuovi modelli tutti e tre i nuovi modelli s24 s24 plus ed s24 ultra tante novità vi spiego tutto si parte da quelle che secondo me sono le prime vere novità è chiaro che tutto va ancora attestato fa tutto ancora provato avrò lo smartphone a disposizione quindi prestissimo arriveranno dei contenuti sul sul canale prove riprove chicche vabbè lo sapete per avere tutto il vostro supporto mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un bel pollicione in su mi sostenete questa cosa mi fa molto molto piacere soprattutto scrivetemi sotto nei commenti quelle che sono le vostre perplessità cosa vorreste sapere perché chiaramente in questo video non potrò raccontare tutto perché io racconto solamente dopo aver provato e come vi ho anticipato all'inizio video la vera grande grandissima novità sta proprio sulla sulla l'intelligenza artificiale quindi la nuova galaxy ai e che di fatto porta a un nuovo modo di lavorare di interagire di utilizzare il nostro smartphone abbiamo delle tantissime nuove funzioni che serviranno proprio per farci comunicare sempre meglio e soprattutto senza barriere mi hanno fatto vedere tutta una serie un po le funzioni quelle più più importanti ma sicuramente ce ne saranno tantissime altre e sono veramente curioso di conoscerle non appena avrò lo smartphone a disposizione è una è interessantissima che è proprio quella di quando facciamo delle chiamate con degli interlocutori che parlano la lingua diversa dalla nostra ci hanno fatto vedere un esempio pratico con una chiamata una pizzeria coreana di fatto noi abbiamo parlato in italiano e dall'altra parte in coreano non conoscevano l'italiano quindi è come se lui avesse fatto da interprete quindi avesse tradotto in tempo reale tutto quello che dicevamo e dall'altra parte rispondevano quindi sentivano una voce che dove chiaramente la nostra voce adesso la voce simulata però si fa abbastanza intendere loro rispondevano e via dicendo e quindi praticamente ognuno parlava nella propria lingua parlando con una pizzeria coreana quindi questa è una prima grande rivoluzione di fatto che abbatte e ci rende rende un po tutti quanti più indipendenti nel comunicare qualcosa qualcuno l'intelligenza artificiale interviene tantissimo nella facendo delle traduzioni intelligenti e soprattutto di testi chiaramente anche sfruttando la spen è proprio per fa una traduzione una traduzione live anche e questo avviene anche senza la necessità di una connessione dati a proposito connessione dati inizio a fare un primo distingo perché ci saranno ci sono delle funzioni che funzioneranno esclusivamente sul cloud perché chiaramente la potenza di calcolo deve essere molto alta ce ne sono altre invece che funzioneranno in locale proprio sul sullo smartphone queste chiaramente le sviscereremo poi pian pianino abbiamo un assistente chat che di fatto ci aiuta a perfezionare il addirittura il tono che vogliamo dare a un messaggio proponendoci proprio dei suggerimenti e questo è utilissimo anche per scrivere che ne so una descrizione più accattivante di un post quindi la vera e propria essenza dell'intelligenza artificiale che funziona con tutte le app di messaggistica quindi questa ed è molto molto veloce questa parte grazie alla tastiera samsung che infatti è implementata sulla punto sulla tastiera questo comunque va tutto controllato però ci fa capire quanto la previsione noi volete l'aiutarci rendere tutto molto più semplice diventando sempre più determinante sempre è più il fattore di differenza fra uno smartphone dalle sole caratteristiche premium top a uno smartphone che le utilizza e le spreme al massimo cioè di fatto non si parla più di fare una foto una bella foto perché ormai delle foto le fanno pressoché tutti ma come poi si utilizza la foto infatti ora ci arriveremo altra funzione introdotta per cui samsung ha puntato sta puntando tanto è cerchi e cerca che è di fatto è in colla è una funzione in collaborazione con google che ci dà possibilità cerchiando facendo uno screenshot e cerchiando un oggetto non vale per le persone per un tema di privacy però cerchiando un oggetto lui a fare una ricerca di quell'oggetto sia fisicamente sullo smartphone che su tutto internet e quindi ci trova di che cosa abbiamo cercato ed è devo dire funziona già molto molto bene chiaramente sono state fatti degli upgrade anche a livello di fotocamera e quindi tutto quello che è foto e video e queste queste le approfondiremo poi nel dettaglio con il classico sfidozzo che arriverà contro altri top di troppo top di gamma proposito fatemi sapere qui sotto quale vi piacerebbe vedere in sfida su foto e video la cosa che mi è piaciuta veramente tanto è il fatto di avere questo questo provvicio all engine che è una suite di intelligenza artificiale che si occupa proprio di tutta la gestione tutto il flusso della gestione dell'immagine quindi dalla creazione fino alla post produzione all'editing e al caricamento sui social e tutto questo è studiato molto bene abbiamo visto degli esempi che sono quelli di banalmente seleziona fare una foto selezionare scontornare e spostare il l'oggetto in quel caso lì subentra anche la l'intelligenza artificiale generativa che rigenera la parte allargare una foto e quindi avere tutta la parte di sfondo rigenerata tutte delle chicchette che andremo approfondire però fatte già bene solitamente quando si parla di una rivoluzione del genere diciamo si deve un po' attendere invece dai dei test che ho potuto fare comunque ha già già produce dei buoni risultati sempre relativamente foto e video abbiamo un miglioramento con la night photography soprattutto sullo zoom grazie al fatto che samsung abbia sia passata a sì una 5 perra ottica però 50 megapixel quindi alla possibilità di riempire maggiormente di dare rendere i pixel molto più luminosi infatti la grande resa è avvenuta proprio in queste in queste cose anche qui approfondiremo vedremo confronteremo c'è tanto da vedere però si va sempre con il l'ausilio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale cioè io non mi saccherò di dirlo e continuo a dire l'ho detto già precedentemente era quello che mi aspettavo sì quindi trago già delle piccole conclusioni era quello che mi aspettavo da quello che volevo c'era qualcosina che avrei voluto a livello hardware però di fatto quello che volevo sostanzialmente era migliorare un prodotto già ottimo che conosciamo ormai abbiamo apprezzato abbiamo imparato ad apprezzare e migliorarlo però secondo me migliorarlo dandogli maggiore intelligenza è stata migliorata e questo l'ho provato due secondi però vi posso dire è stata migliorata la stabilizzazione ottica si vede un bel miglioramento e ci sono tutte le funzioni di intelligenza artificiale come vi dicevo l'edit suggestion che ci suggerisce un po quelle che sono le modifiche anche su questo arriveranno un miliardo di tips perché ho visto già ci si può cambiare si può lavorare si possono fare tante cosine e nella modifica generativa ve l'ho detto quindi editiamo delle foto spostiamo l'oggetto e ho visto per quel poco potuto vedere che comunque la parte che che deve essere rigenerata è rigenerata veramente benissimo e diciamo il mio paragone è quello col pixel che già faceva un ottimo lavoro ecco posso garantirvi il risultato è veramente altrettanto eccezionale per i video l'introduzione cioè la possibilità di poter generare degli slow motion sfruttando l'intelligenza artificiale fa un po scopo con quello che vi dicevo prima migliorare la cam no si poteva fare sì molto probabilmente lievemente ma il sensore quello che è piccolo quindi a meno che non si vada su un sensore grosso come quello che mi sta riprendendo diciamo ci sono comunque i limiti e si può migliorare poco avrei voluto il 120 fps sì ma io perché ci faccio i video quindi mi servono per rallentare e fare degli slow motion ma samsung ha sfruttato benissimo l'intelligenza artificiale anche nel mondo video e la possibilità di creare degli slow motion praticamente cosa avviene crea dei fotogrammi con l'intelligenza artificiale in maniera tale da creare più fotogrammi e darci la possibilità di screcciare allungare il video e quindi rendere maggiormente fluido un video rallentandolo questa è una generata incredibile cioè se ci pensate è una roba che sostituisce una cosa che deve essere fatta montando una lente che deve avere 120 megapixel quindi lo studierò perché mi servirà tantissimo oggi è potrebbe essere per quanto mi riguarda una funzione una killer future l'altra killer future che invece è voglio provare perché non c'era la possibilità di installare un social network un'app e social media alle all'inter di social network all'interno degli smartphone che avevamo così in test quei che stiamo provando è quella dell'ottimizzazione intanto il miglioramento su la funzione di hdr è in più la miglioramento o della dell'integrazione con le app di social tipo instagram finalmente avremo tutte le caratteristiche che troviamo all'interno del nostro s24 ultra sono replicate potranno essere utilizzate esattamente come avviene con iphone o come si è visto anche con i pixel potrà essere utilizzato quindi i miei colleghi che erano un po perplessi diciamo oggi avranno uno strumento in più per poter come faccio io d'altronde e poter utilizzare il s24 e 64 plus e 64 ultra perché oggi è più e maggiormente ottimizzato con i social anche questo andrà a testare e volevo fare un po un punto su quello che erano le diciamo differenze le prime differenze che poi alla fine saranno le domande che mi chiederete inizialmente che cos'è cambiato a livello hardware allora faccio subito una precisazione per tutti voi che mi seguise il è stato introdotto il nuovo estrapotente exynos sul sulla serie ultra mentre per quanto riguarda la serie plus e la serie standard abbiamo l'exynos il 2400 che onestamente voglio provare voglio testare perché lo sapete mi seguite da un po io sono molto convinto che la strada intrapresa da parte di samsung per quanto riguarda la scelta di un proprio di un proprio processore sia una scelta a mio avviso molto azzeccata è chiaro ci sono un po di luce d'ombre però andrà approvato questo 2400 che sulla carta dovrebbe essere molto molto performante andando al comparto delle camere per quanto riguarda le caratteristiche tecniche abbiamo su tutti e tre i modelli una ultra wide da 12 megapixel la standard sull'ultra è da 200 megapixel mentre sugli altri due modelli il plus e lo standard è da 50 megapixel come vi dicevo la tele da 50 megapixel 5x stabilizzata otticamente sull'ultra mentre la tele 10 megapixel stabilizzata otticamente su tutti e tre modelli che è una 3x sulla selfie cam rimane esattamente la stessa su tutti e tre modelli che è una 12 megapixel per quanto riguarda il design che ora vi sto facendo vedere sotto abbiamo una scocca in titanio è una protezione migliorata sull' s24 ultra che di fatto introdotta il nuovo gorilla glass è l'armor una nuova tecnologia che è molto molto più resistente di con il samsung rispetto alla precedente versione mentre sull' s24 s24 plus resta il gorilla e cioè abbiamo il gorilla glass victus nella versione 2 su tutti e tre i modelli il display è flat non ho ancora provato con le spen e sapete che io utilizzo tantissimo le spen e quindi lo proverò e vi dirò un feedback non appena avrò un po più di tempo per per utilizzarlo però di fatto è più piatto rispetto al s23 ultra e abbiamo una luminosità di picco che arriva fino a 2600 nits effettivamente al di là della scheda tecnica i dati tecnici è oggettivamente molto molto luminoso anche in condizioni di luce molto molto forti e andiamo alla parte romantica che ovvero quella del prezzo l'uscita prevista per oggi 17 gennaio e consegne che partiranno dal 24 gennaio vi lascio il link sotto descrizione c'è una promo che valida fino al 30 quindi fino a fine mese che acquistando il taglio di memoria esempio s22 s24 ultra 12 giga di ram 256 giga di memoria interna quindi 1499 euro samsung vi dà la versione superiore ovvero quella a 512 giga per ls24 ultra è prevista anche una prevista anche un taglio di memoria da ben un tera altra promozione che troverete sempre in descrizione è sulla sulla super valutazione dell'usato quindi io vi invito ad andare giù ci saranno tutti i link e se volete potete utilizzare anche bottega for you che il mio codice se vi fa mi fa piacere mi fa piacere allora io credo di avervi raccontato tutto non ho avuto tantissimo tempo per testarli e lo smartphone mi sta arrivando ho espresso un desiderio vediamo se mi ascolta mi piacerebbe avere quello grigio lino quello di chiaro non il calo è quello grigio lino che mi piace veramente tanto il color titanio molto molto elegante molto molto bello che speriamo mi arrivi a più presto in maniera tale che io possa portarvi altri contenuti mi raccomando continuate a sostenermi è importante perché se sono qui e grazie lo saprete soprattutto a voi che interagite che scrivete che mi sostenete che che grazie ragazzi noi ci vediamo un altro fantastico video ciao